Niente conflitti, niente fastidiosi compagni di scuola, niente commedie e finzioni. Chiusa la porta e Lorenzo è pronto a trascorrere da solo, nascosto da tutti, la sua settimana bianca in cantina. Una strana idea, una bugia e il gioco è fatto. Il mondo con le sue regole fuori dalla porta e lui, stravaccato su un divano, circondato da coca cola, scatolette di tonno e romanzi horror. Ma improvvisamente Olivia piombi in cantina con la sua singolare personalità a rovinare i suoi piani. Qualcosa cambierà in Lorenzo. Riusciranno a mantenere la promessa.